Bella a tutti, belli e brutti, io sono Federico Valumbo, sono Umberto Valumbo e siamo qui tornati con Federico Giorgio per il post partita Roma-Lazio 1-1 da tanto tempo, da Roma-Torino, eh sì, quindi non tanto tempo, poi veramente però, comunque, siamo qui riuniti per parlare della, riuniti, abbiamo visto la partita insieme, insomma, prima volta, è finita con un pareggio, comunque, Vai, andiamo al solo Allora, vedendo il risultato, io l'avrei firmato per questo risultato, perché comunque la Roma non veniva da una buona prestazione, aveva bisogno di qualche bella prestazione, comunque, anche un pareggio mi andava bene Alla fine, quindi, quello che arriva Sì, però, vedendo poi la partita, con una Roma che domina completamente una partita, praticamente, che l'avrebbe meritato ampiamente, a quel punto avrei detto, la Roma deve assolutamente vincere Eh, tu che ne, cioè, la Roma deve vincere, perché se lo merita, eh, tu che ne pensi Federico? Io penso che Giego ha sbagliato una frega di occasioni Mi sta facendo imprecato Però, per me, comunque, resta il migliore in campo Secondo me, sono altri rischi Quella, under, che ne salta tre, poi Giego tira centrale, poi per le grine rovesciate, là, uno dei tre doveva fa gol, cioè, Giego sta buono davanti alla porta, cioè, dopo la centrale No, e Giego ha sbagliato tanto sotto porta, ma comunque è stato bravo, soprattutto Anche perché il gol che ha fatto è stato un po' fortuito Allora, i portieri non sono stati dei migliori Cioè, i peggiori in campo, penso che siano Allora, Stragoscia comunque ha fatto parecchi interventi Stragoscia no, perché comunque Paolo Opez, comunque, ha subito il gol e poi non ha preso nessun altro tiro Quindi diciamo che alla fine Stragoscia no, Stragoscia, cioè, papere sì, però alla fine Stragoscia Il 5 di Paolo, peggiore in campo della Roma, Paolo Opez L'unico insufficiente, diciamo, perché comunque gli altri Anche, anche Santon Mi è piaciuto Stop, bravissimo Santon Poi, bravo Santon Comunque, parliamo della partita in sé per sé L'inizio è un po' noioso L'inizio è un po' noioso Prima del gol, alla fine, niente Poi, lancio di Cristian, andava cazzo di cane Esce Stragoscia Lisce la palla e gol Quindi, gol di Diego Tutti esaltati E dopo 8 minuti Ha detto, ah, papera Facciavano un'altra Allora, quello Quell'occasione Però, Paolo Opez, davvero, ha fatto La papera peggiore Allora, Paolo Opez Da dove gira fuori Ha messo dentro Poi, smalling, traversa linea Alvina Cerbi ha segnato Ma è come giusto che sia Perché alla fine, quello di Stragoscia Cioè, uscita a vuoto Sì, ma in quell'occasione Tu, se non sei sicuro Perché comunque sei marcato Da un altro giocatore Di poterla stoppare con le mani A quel punto Buttala fuori Invece che Tirarla più in alto E uscire Aspettando che il tuo difensore La butti fuori Buttala tu, sinceramente Questo è quello che Il messaggio che vorrei Lanciare a Paolo Opez Che praticamente Ci fa perdere la partita E guarda i nostri video Assolutamente Grande, Paolo Ciao, ti salutiamo Non so che ci segui Ertati in un posto motociclista E Fede, Fede Puoi dati in un posto Comunque Federico Giorgio Comunque Già sa Eh, dovrei cambiare Tipo il nome No, Federico Giorgio Allora 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 100 iscritti Faccio un account Cambio nome Oh, voglio fare 100 iscritti Cambio nome E inizi a postare anche lui Video su Youtube Così Così Comunque Si può fare Però Dando 100 iscritti Poi dopo il gol Di Paolo Opez Comunque pensavo Che comunque la Roma L'autogol Praticamente Poi il gol di Acerbi Praticamente Pensavo che Che la Roma Si disunisse Invece Invece La Roma ha continuato A offrire il gioco Ho continuato a creare occasioni Tantissime occasioni Veramente mi sono piaciuti Gli esterni Mi sono piaciuti I centrocampisti Mi è piaciuta tutta la Roma Per come ha giocato Poche però Poca concretizzazione Ancora Ci manca quella cosa in più Di buttarla dentro È tipo l'Inter Eh Che oggi si è cagata 300 fottuti Gol Beh Diciamo che Comunque La Roma A mio parere Si meritava Questa vittoria Anche per Cioè Non interissi Sì sì Il secondo tempo È stato più o meno lo stesso La Roma che Tantissime occasioni Poi Tra l'altro Vorrei parlare anche Di quello che è accaduto Poco prima Della fine Con un bellissimo Un bellissimo Un bellissimo palo Di Pellegrin Che comunque ha fatto Un grandissimo tiro Praticamente Palla recuperata Da dietro Cioè Stava di spalle Stava provando a fare Un gol di rovesciare Sì Allora Il secondo tempo Ancora Roma Praticamente la Lazio Inesistente Cioè Dobbiamo dire Veramente la Lazio Gli unici giocatori Che ha visto Sono i tre Difensori centrali E basta E Caicedo 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 Ha giocato bene Ha preso due palli Ma non è vero Anzi Tonora Caicedo Comunque Kolarov Se hai preso senza voto Ti piccherò Kolarov Rischi di perpendere Umberto La fatta caccia Contra un avversario Scandaloso No veramente Il mio avversario Aveva Siriku 7 gol presi Izzo Izzo E spulso E Criscito Che ha sbagliato E anche Lautaro Penso il pulso Comunque Allora Se pareggi Ti picchi Allora Se pareggia Tutti sul profilo Di Kolarov Per insultarlo Merda Merda Dove restare in banchina Allora La linea che ci ha fatto Con su punizione Almeno Ha fatto pure a Monilite Cioè Allora Io dovrei dire che Invece vorrei parlare Degli episodi Perché Allora Perché allora Il primo gol All'inizio pensavo Non ci fosse Perché comunque Avevo visto una spinta A Paolo Lopez Ma alla fine Era regolare Quale Il gol Il gol della Lazio Era regolare Poi Continua Secondo me Il rigore Quasi dato alla Roma Perché poi c'è stato Un mezzo rigore Alla fine A mio parere Non c'era Tu che ne pensi Perché non c'era Perché Alla fine Patric Non guarda Praticamente Mai la palla Guarda solo la palla Scusate Guarda la palla Poi è andata Stai andata a scontrare Perché anche Chi era E addirittura Clivert E addirittura Viene fischiato Punizione Per la Infatti è giusto Perché io Ho detto Quando si aveva detto Dai che il rigore Ma perché gli stavo a sperare Però in testa Secondo me Non era proprio il rigore Però bravo ladro Che hanno andato a rivedere Che comunque Adesso passerei Direttamente Alle pagine Allora Veloce Rappetendo l'ore Paolo Paolo Dici il voto E Cinque Cinque Praticamente Prende Solo un tiro Solo un tiro E questo Cioè E poi tiro Cross Cross E alla fine Crea l'occasione Assolutamente Sì Vai Santon Allora Santon Assolutamente Sei e mezzo Mi è piaciuto Molto Sono ammonito Però Che me ne frega Che stiamo a fare Quanta calcio Che c'è Allora Sei e mezzo Giusto E dai Pocca un giro Allora Sei e mezzo Giustissimo Perché comunque Buonissima partita In fase difensiva Non si è fatto mai saltare Bravissimo anche Nei due Alli aere Mi è piaciuto Ha spinto tanto Santon Quando in giornata Comunque La sua buona prestazione La fa E per un giocatore Che non ha tutte Queste qualità tecniche Alla fine Passiamo da un terzino Destro Uno sinistro Spinazzola L'infortunato Sette E lui sta rosicando Sette Rosicando Arrumata Sette Una bellissima prestazione Alla fine Io l'avevo detto Togli i collar O metti Spinazzola E poi è entrato E poi è entrato Comunque Spinazzola L'avevo detto Nella scorsa partita Se vi ricordate Comunque Spinazzola Bravissimo Nella fase di spinta E anche nella fase Difensiva Perché Comunque Anche se spingeva tanto Comunque sapeva anche Ritornare in difesa Non lasciava buchi E quindi La difesa della Roma Non ha mai Traballato A parte qualche occasione Ma che alla fine Non ha creato Tutti questi tiri Pericolosi E quindi Passiamo Ai difensori centrali Che non verrà mai riscattato Chris Smalling Chris Smalling Sempre 6 e mezzo Bravo Di fisico Belle Fatto Bebe contrasto Uno contro uno Mi ricordo Sì sì Assolutamente Sempre I mobili De vendere una visto palla Diciamo Sì Assolutamente Poi Poi passeremo Anche le paggelle Della Lazio Cioè Diciamo Paggelle Mini paggelle Della Lazio Comunque Voglio Voglio dare A Chris Smalling Comunque 6 e mezzo Perché comunque La sufficienza Di fiducia Mango Perché comunque Sappiamo delle sue qualità Sì sì Sto scherzando Ma Non si è fatto Non ha fatto Non si è fatto mai superare Sempre Concentrato Ormai Smalling Lo conosciamo Mancini Mancini 6 Mi è piaciuto anche lui Bravo Se non è la tre della nazionale Non è giocato Ah l'altro Mancini 6 Scusate ma Scusate ma è dislessico Voglio un po' provvisare Vai Mancini 6 Perché Perché Io le avrei dato qualcosa in più Beh io comunque La sufficienza Non ho esagerato Perché comunque Il risultato poi comanda Però alla fine Un'ottima sufficienza Non si è fatto mai superare Sempre concentrato Sempre attento Molto bravo di fisico La mia ragazza Infatti lui Vede delle sue qualità Comunque Bravissimo Mancini Sempre Sempre sul pezzo Quindi io passerei direttamente a Cristante Che Cristante Che Come cazzo è possibile Io l'ho dato 7 Sinceramente Bravissimo Ha fatto un'assist 6 e mezzo No io direi 7 Perché comunque È stato bravissimo Ha fatto solo l'assist Simone Allora Bravissimo a smistare Bravissimo a smistare Perché comunque Un giocatore che comunque Ha delle buone qualità Di interdizione Comunque Si capisce molto bene Con i centrocampisti Con i difensori Quindi riesce a smistare bene Crea superiorità numerica Centrocampo E sempre Sempre In contrasto Con Con i centrocampisti Praticamente Li ha vinti tutti i contrasti Io farei un applauso A Cristante Che questa partita Veramente Mi è piaciuto Grande qualità E quindi passerei Direttamente A Jordan Beretout Jordan Beretout Jordan Beretout 6 Jordan Beretout Bravo Mi è piaciuto Molte scaloppate Corse Sempre bravo Comunque nel fisico Ha fatto il suo lavoro Ha fatto il suo lavoro Come sempre Perché comunque È un grande giocatore Ormai lo conosciamo Io la sufficienza Gliela do Poi Andrei Con Cengizonder 7 Poi Soglie il dislessico Cengiz Scusa Vai 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 Che comunque Mi è piaciuto Non deve essere venduto al Milan Se viene venduto al Milan Io 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 vado Io vado Io vado Ad imprecare Sotto Comunque Un der meglio nel secondo tempo Sotto la sede della Roma Vero Citando un po' Luca Mastrangio Un der meglio nel secondo tempo Beh sicuramente sì Perché comunque Nel primo tempo Diciamo che il gioco è stato Molto più concentrato Su Pellegrini Però Comunque Le sue incursioni Bravissimo Sempre A A superare in velocità E comunque Veramente L'ha ucciso Lulic Non ci ha visto più niente Parlando di Pellegrini Invece Pellegrini Pellegrini Comunque 7 Pellegrini Quindi uno dei migliori in campo Pellegrini Pellegrini Anche lui 6 e mezzo Sempre bravo Ad Offrire gioco Cioè tu dai 7 a Cristante E 6 e mezzo A Pellegrini Io avrei invertito Diamogli 7 Vabbè Come è il suo numero di maglia Bravo Comunque Bravissimo Pellegrini Qualità Eccelse Qualità 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 Incredibile Che ormai Conoscono Praticamente tutti E inoltre Vorrei fare Anche un appunto Questa partita In questa partita Veramente Dzeko E' stato servito In ogni modo Da Pellegrini Che praticamente Continuava a macinare Occasioni Riusciva a ridargli Palla In tutti i modi E ha creato A parecchi tipo Il palo Di Pellegrini Bellissimo Perché è molto complicato Prendere la torre Assolutamente L'altro esterno Justin Cliver 6 Non mi è dispiaciuto Però La sufficienza Comunque c'è stata Perché comunque Non ha fatto Grandi errori Se si procura Verricoli inesistenti Forse 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 Effettivamente Però Comunque La sufficienza Gliela possiamo dare Perché comunque Non ha fatto Una brutta prestazione No Siamo alla punta Ed in gioco Mio migliore in campo 7 Due occasioni Questo devi dirlo però Devi dirlo Sì 7 Mio migliore in campo Perché Perché Allora I motivi sono due Principalmente A parte che Crea tantissime occasioni Ormai lo sappiamo Poi il fatto che Comunque faccia sponde Da tutti noi Poi praticamente Avendo tutti Tutti quanti Contrasti aerei Con Acerbi Che non ci ha visto Più niente Non so se lo sapete Ma con questo gol È arrivato in doppia cifra Quindi è arrivato 10 gol Che comunque Non è male Perché Non benissimo Però Comunque Rispetto all'anno scorso Dove fece 7 8 8 8 8 8 8 8 No forse 9 Comunque Rispetto all'anno scorso Non è arrivato in doppia cifra Che è un buon problema Potrebbe arrivare Intorno ai 15 16 gol Che comunque Non è male Per una punta Che non fa solo questo Dai raggiungeremo Fa molte Fa molte sponde Fa molte sponde Fa tutto il suo lavoro Che ormai Lo conosciamo tutti E lo fa in un modo eccellente E continua sempre A Sempre A incitarmi Quindi io 7 Migliori in campo Secondo te Qual è stato il tuo migliore in campo Della Roma O comunque della partita Perché sappiamo Che Io direi tra Pellegrini E Gieco Ok Anche Undera Però Undera Ha fatto solo con la mezzazione Però Pellegrini E Peppicino Non la frega Ok Pellegrini E lui Mi sto dicendo cazzate Andiamo avanti Con Diego Perotti Allora Passiamo ai sostituti Perotti 6 Niente di che Praticamente Non ho visto Praticamente per niente Alla fine Colui che forse Farà perdere Quando aggancia Umberto Senza voto Vabbò io gli do Senza voto Speriamo di non Alla fine Non fa niente Quindi E il morto No Vabbò Già per pastore Entra per non fare un cavolo E va bene Ok Siamo al migliore Peggiore in campo Della Lazio Ok Senza voto Allora Migliore in campo Guarda Guarda la formazione Allora Io sinceramente Il migliore in campo Direi che Il mio migliore in campo Della Lazio Credo sia stato Milinkovic Savic Tu sei un ritardato Milinkovic Savic Non ha fatto niente Non ha fatto niente Perché? Secondo te chi è stato? Forse Stracoscia E a Cerbi Ma io sinceramente Milinkovic Savic Mi è piaciuto Abbastanza Non ha fatto niente Dai 4 e mezzo Ha preso su Su cose Io gli avrei dato Comunque A me A me è piaciuto Allora Diggi tu Ok Diggi tu Cosa? I tuoi migliori in campo Stracoscia A Cerbi Alla fine Comunque In base difensiva Soprattutto In base difensiva Fatto bene Se è mezzo Il gol Tu dirai Maglia la porta Però intanto L'ha fatto Se la non gira Quella parla Non entra Comunque A Cerbi Fatto gol Peggiori in campo Penso che c'è Uno solo Immobile Quattro Direi Anche a Monito Per poter essere Proprio ritardato E' veramente immobile E' inguardabile Questa partita Ma veramente Gli va dato il merito A Smalling Che l'ha tenuto Per tutta la partita E lui Non è riuscito Praticamente Ad offendere Per nulla La reto guardia Della Roma Quindi Passerei a Mister Fonseca Mister Fonseca Sette Bravo Comunque Ad offrire A concentrare Ma comunque Mi è piaciuto Perché Mi è piaciuto Come La cosa La sua giocata Che hanno inquadratto Tipo Per un quarto Allora Non sei che così Un bellissimo Infatti È una bella partita Ci ha giocato bene Sì 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 Comunque Stavo inquadrando la partita E la Lazio Che tipo Attaccava Comunque Io sinceramente Vorrei Vorrei Che questo mister Fosse più Valutato Come uno dei migliori mister Che abbiamo Al mondo Perché Per il suo gioco È un mister Pazzesco Perché comunque È un mister Che continua A stupirmi Per come Fa giocare la Roma Per il modo Di dominare Le partite E quindi Direi che questo video Possa finire qui Mi raccomando Lasciate like Iscrivetevi al canale Commentate qui sotto Con la vostra opinione Su questa partita E mi invito A seguirmi su Instagram Ert Aspetta Ma forse Volevi dire Fede Trattino basso Palumbo Intanto Faccia A commentare Io commento Quindi Ci guardiamo io Tu Il fratello Che devo dire È il tuo Instagram Fede Trattino basso Palumbo Che Uscirà una foto Con Ermotociclista Bella